Buongiorno a tutti, sono Mattia Rimondo, fondatore e amministratore delegato di Nova Stark, una startup innovativa nata all'interno del Politecnico di Torino, che ha scelto come accompagnatore tra i quattro SOGES, 2i3t e B industry park, in maniera abbastanza naturale, l'incubatore i3p. Nova Stark aiuta le aziende vinicole a migliorare le condizioni della propria cantina tramite sensoristica IoT di precisione, infatti è un'azienda tecnologica specializzata proprio nel monitoraggio. L'obiettivo è quello di ridurre le perte di prodotto e migliorare l'efficientamento energetico delle cantine. In quanto startup innovativa, sicuramente tra le nostre attività c'è la ricerca di capitali e il bando Inometro, appena pubblicato da Città, metropolitana di Torino, ci sembra estremamente interessante, soprattutto per il fondo perduto del 50% che ci permette di avere. Inoltre, visto che possiamo partecipare sia come fruitori, ma anche come fornitori in quanto produttori di tecnologie innovative. Per questo ci siamo messi subito al lavoro e insieme all'incubatore i3p, che ci accompagna e ci supporta, stiamo capendo come sfruttare al massimo questo strumento.